Arrivato ieri sera a Genova, dalla Norvegia, la prima cosa che mi ha detto, mi ha detto hai mica un maglione, chi è che fa un freddo, dalla Norvegia. Abbiamo delle grandi sorprese, avremo gente che parla di povertà, di acqua, di telecomunicazione, di giustizia, perché abbiamo anche uno dei più grandi esperti di giustizia, abbiamo un architetto che fa cose meravigliose di bioidelismo, dobbiamo andare avanti, pensare veramente in un altro modo, ma andare a casa, in una casa che la costruiamo apposta per mandarci, e andare oltre questo dilettantismo politico e questa falsità, sono falsi, sono falsi, lo vedo con questi ragazzi che sono dentro, cosa fattiscono? Fanno la legge sul femminicidio, bene, dentro ci mettono, il paragrafo 5 che abolisce, il paragrafo 7 che abolisce la legge 41, che è mezz'ora per votare il femminicidio, fai a vedere cos'è, è che quel paragrafo lì toglie il comma che aboliva le province, quindi attraverso il femminicidio non aboliscono più le province, e poi noi non abbiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza, non ce ne abbiamo, abbiamo i soldi per fare il 35, le missioni del cazzo, in attraverso, vogliamo, vogliamo accortiamo i comuni sotto i 5 mila vittanti, togliamo il peccato di province e facciamo un referendo sulle regioni, ci togliamo dai coglioni anche le regioni, e poi dobbiamo pensare in un altra moda! Milioni di movimenti, di comitari, di persone, milioni di persone, lui fa parte di questi milioni di persone, è venuto qua a testimoniarci con la sua presenza, quello che stanno facendo loro, noi siamo andati leggermente più avanti, abbiamo detto la piazza, sia la piazza che poi cosa facciamo, la piazza dobbiamo andare oltre, noi ricordatevi una cosa, la nostra storia, la nostra storia è quella fondamentale, abbiamo fondato il movimento il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, prima che ci fosse il Papa, questo qui, lui ha copiato un pochino, e lui è griglino, è vero, mi ricordate le parole guerrieri, le parole guerrieri, quelle che ti vergogna di avere dentro, le nostre parole di solidarietà, senso della comunità, nessuno deve rimanere indietro, le cose di cui ti vergogna dirle, perché sembri uno smidollato a dire quelle cose lì, e sono parole forti, bene, noi abbiamo fatto il primo V-Day, ve lo ricordate, Parlamento pulito, via i condannati dal Parlamento, non c'è stato un giornale che ha pubblicato la lista dei 25 condannati in via l'eventiva che erano in Parlamento, solo un Washington Post, l'Eral Tribune, scusate, ci ha pubblicato, l'Eral Tribune, abbiamo fatto il referendum per dire due legislature e poi a casa due, non vent'anni o trent'anni, due e poi se ne vai a casa, abbiamo fatto capire, abbiamo chiesto, abbiamo raccolto 350 mila firme per avere il voto di preferenza, nel 2007 il voto di preferenza c'è cambiare la legge elettorale e ci vengono a dire che noi siamo a fare a favore del porcello, questi mentitori, perché di nuovo mentito e mente sempre, questo Letta ha andato in televisione a dire che eravamo noi a favore del porcello, quando lui c'è la sua firma sugli altri e ha detto di lasciare, di lasciare, di lasciare, noi li toglieremo i soldi, toglieremo la loro rifa, toglieremo, andranno e vorranno fare politica, faranno come noi, faranno come noi 10 mila persone, hanno dato 200 mila euro per organizzare stasera, da 5-10 euro, siete voi i padroni di questa piazza stasera, non abbiamo nessun asporto del cazzo e non abbiamo nessun soldo, subito e toglieremo anche le fidate ai giornali di legge, questi giornali che si prendono per il culo ogni giorno, ogni giorno, queste sono idee chiare, noi facciamo quello che diciamo, adesso arriva questo lui che si chiama Michael White, Michael, 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 Michael!